Posso fare una domanda al dottor Magrini? Quando arriveranno tutti questi vaccini a disposizione, perché ovvio in questa fase non è stato possibile scegliere il vaccino e credo che non sia giusto lasciar scegliere al singolo cittadino, ma quando ci saranno tanti prodotti diversi, poiché sono vaccini diversi, sarà possibile per il medico selezionare il vaccino migliore a seconda delle patologie che ha il proprio paziente? Non sarebbe ottimale un coinvolgimento da parte del medico di famiglia nella scelta del prodotto migliore sulla base della storia clinica del paziente? Ma certamente se sarà possibile identificare caratteristiche di pazienti che si possono meglio giovare dell'uno e dell'altro, lo si farà e lo faremo, perché si è parte di una comunità di cui lei certamente è tra i top influencer per farlo e per discuterlo. Credo però che per ora le scelte organizzative prevalgano. In altre parole, un vaccino a dose singola che non ha bisogno di catena del freddo come Johnson & Johnson è un vaccino ideale per i medici di famiglia, ad esempio, o per i nuovi soggetti vaccinatori, che potrebbero essere anche i dentisti, per esempio. Quando la sovrapposizione è ampia si potrà anche vedere se organizzativamente parlando questo è un fattore facilitante o se invece può diventare un impedimento anche organizzativo perché avere vaccini diversi programmati nella stessa sede per diverse popolazioni può essere anche complicato dal punto di vista logistico. Però sarà parte della sfida gestire 6, 7, 8 vaccini anche contemporaneamente questa estate.